Io sono l'Imperatore Con un deficit di meno 33.000 Meno 33.000 Di fucili Eccolo qui il problema russo Porca miseriaccia Allora ragazzi direi di ridurre Eh non c'è niente da ridurre Queste sono le mie fabbriche Quindi o convertiamo un po' di fabbriche civili Ma per il momento ragazzi abbiamo un po' di tempo Quindi pensiamo a riarmarci E partiamo Ho spostato le truppe persiane Perché tanto per il momento non c'è possibilità Di entrare in guerra con la Persia Le ho spostate sul confine Cinese Quindi sfrutteremo un po' la situazione Per accaparrarci se possibile La Manciuria Quindi vediamo 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 Sicuramente faremo lo sforzo diplomatico E tenteremo di fare questo Tratto del focus Potremo anche stabilire Un protettorato Sull'Impero Mongolo Se mai ci sarà Ok ragazzi Quindi per il momento Facciamo pure andare Allora direi di cominciare a mettere comunque I generali Che abbiamo De Felmarescialli Per il momento Basterebbero dei generali Comunque Però Non servono Perché non ci saranno grandi guerre Nel frattempo Comunque Rivolta albanese Oh wow ragazzi Sta per scoppiare la guerra balcanica Mi piacerebbe tanto partecipare Quindi vediamo se Magari ci darà la possibilità Di intervenire in qualche modo Ma dove voglio andare Che ho tutte le truppe Disorganizzate Sono sotto di 33 mila Porca miseria Dice che verrà Rimpinguato tutto In 940 giorni Se fate un po' Un calcolino Sono circa Tre anni Quindi prima della guerra Dovremmo essere in grado Di Vabbè Ovviamente Questo mantenendo L'economia come adesso Quindi Penso che Molti di voi Mi hanno criticato Per la scelta Di investire Sulle navi Non vorrei che Il volume fosse un po' Troppo alto Quindi Un attimo solo Audio Così Dovrebbe essere meglio Acceleriamo Mettiamo a 4 ragazzi Che al momento C'è davvero ben poca roba Da fare Allora 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 La Russia La Russia si trovava Ragazzi Nel 1910 In grande difficoltà Questo perché Era lo stato Più arretrato Dal punto di vista Economico Praticamente Aveva un intero Tutta la sua Mano d'opera Era tutta Investita In In attività Agricole Aveva un immenso Esercito Di contadini Tra l'altro Poi era Scarsamente Industrializzato Quindi la rivoluzione Industriale Non aveva tanto Toccato La Russia Che Era rimasta Comunque Ad un tipo D'economia Ve l'ho detto Rurale Arretrato E diciamo Sempre di stampo Quasi medievale Pensate che ragazzi C'era la servitù Della gleba Quindi ancora Il contadino Doveva Era obbligato Diciamo A coltivare la terra Per un Latifondista Un feudatario Un proprietario Non possedeva quella terra lì Non era sua Era di qualcun altro Allora Qui abbiamo Intanto Ben due Porti Possiamo Investirli In distruttori E magari Large Armored Cruiser Non è male Però al momento Non conviene Tanto Suddividere Ecco Direi un bel Dreadnought Potrebbe essere Un'ottima scelta Rinforzarlo Vediamo se stiamo Costruendo ancora Un po' Di porti Sì Adesso finalmente Si siamo messi Anche A produrre Fabbriche militari Quindi la Russia Si trovava In grave difficoltà Tra l'altro Io ragazzi Non ho mai capito Come il comunismo Quindi il soviet Riuscì Ad attecchire Tanto In Unione sovietica Perché se ci pensate bene E in unione sovietica In Russia Perché se ci pensate bene Quando Marx Parlava del proletariato Intendeva tanto Soprattutto i lavoratori Nelle fabbriche E Diciamo che Di fabbriche In Russia Non ce n'erano Ma Lenin Fu in grado Comunque Di adattare Quel pensiero Anche per I contadini Sebbene originariamente Non fosse quello L'obiettivo Ragazzi Abbiamo solo Una Un'unica linea Porca miseria Un'unica linea Di Fanti Contro l'Austria E vediamo Ecco la Germania Non siamo messi Meglio Loro invece Hanno anche 3 4 divisioni Per Per regione Ragazzi Verremo annientati Brutalmente Altro che Rullo compressore Comunque abbiamo Una flotta Abbastanza buona Tra l'altro Qui 100 navi Un naviglio Di 100 navi Sicuramente qualcosa Sposteremo in Giappone Oppure Lasceremo lì Tutto E in Giappone Invece cercheremo Di basarci un po' Su Sulle truppe Che già abbiamo In loco Allora Possiamo metterci Un ammiraglio Io il Giappone Lo voglio distruggere Ragazzi Intanto qui Abbiamo finito Cos'è che avevamo fatto Lo sforzo industriale Giusto? Possiamo fare un po' Di infrastrutture E armamento In effetti Però questo Bisogna aspettare Il 1911 Per farlo Possiamo cominciare A fare l'infrastruttura E poi fare Qualcos'altro Fare magari Lo sforzo diplomatico Per partecipare Alla guerra civile Cinese Abbiamo un altro Porto Da destinare Magari a questo Battlecruiser O magari organizzare Ecco così Produciamo 4 distruttori All'anno Siamo sempre più forti Giapponesi Ragazzi Io purtroppo Li detesto Abbastanza I giapponesi E' una cultura Che ammiro Che ammiro Però se gioco Come russo Devo detestarli Perché Questi Hanno avuto L'ardire Di sconfiggere La mia Marina Azzarista Allora Vediamo Convoi Siamo 95 Non so Se rinforzare Un po' La produzione Di convoi O attendere Sicuramente Forse è meglio Produrre Battlecruiser Ecco qui Stiamo facendo Bene Secondo me A rinforzare Anche un po' La marina Vediamo se ci sarà Qualche focus Che ci consentiranno Di rinforzare Oh bello Questo Poi lo facciamo Voglio avere Una marina forte Ve l'ho detto Ragazzi E' una cosa Che non faccio Di solito Nelle campagne E poi me ne pento Di non giocare Tanto a livello Navale Poi anche Gli aerei Magari Dobbiamo pensare Di rinforzare Abbiamo fatto Tante tecnologie Quindi Mettiamo subito Possiamo andare Anche avanti Magari a due Allora direi Di tecnologie Reinforce rate Va bene Ecrittazione Decrittazione Sottomarini Allora Questo diminuisce Il tempo di ricerca Quindi Lo facciamo L'1% In meno Non è male Poi direi Produzione Di petrolio Non è male Neanche questo Però Questo Va bene Adesso voglio rinforzare La mia economia Costruzioni Risorse Efficienza Questo invece Ah per la costruzione Delle fortificazioni Va benissimo Industria E poi 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 Invece possiamo Cominciare Un attimo A Vediamo la nostra marina Mi sembra Tutta Forte Ok Intanto la finestra Secchiusa Porca miseria Anche l'aviazione Ci siamo Ci siamo Dottrine Ecco C'è una dottrina Però le dottrine Forse è meglio aspettare Il focus Per le dottrine Che diminuisce Il tempo Direi Di organizzare Magari L'artiglieria L'artiglieria Deve essere Più potente Non ne stiamo Producendo Ma poi Ne produrremo Tanta Perché Cercheremo Un po' Di giocare Di artiglieria Mettiamo pure A tre Quindi adesso Abbiamo un altro porto Ragazzi Lo mettiamo Sempre per i Battlecruiser Magari Oh 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 Magari Non stiamo Producendo Distruttori Dove sono Finiti Bastardi Melantolti Ah Perché sono Ok Mettiamo infiniti Ne servono Parecchi E che cazzo Pensavo ad avere Un altro porto Nuovo Ma in effetti Non li stavo Costruendo Ragazzi E quindi Comunque Il comunismo Attecchi Parecchio Soprattutto Per le scarse Condizioni Di vita Ma più che altro Non tanto quello Ma proprio L'assenza totale Di Cos'è questa L'Albania Ok Che si è ribellata Più che altro L'assenza totale Di diritti Poteva ancora Venire il feudatario Al contadino Tirai un bel pugno In faccia E Accettavi O no Dovevi lavorare La terra Perché eri servo Della gleba Quindi eri costretto Praticamente a farlo Non è che ti potevi Ribellare Tuo padre era così Il figlio pure Tuo nonno ha fatto quello E quindi sei costretto Comunismo Attecchi Ragazzi Però Le condizioni di vita È una bella cosa Che Non cambiarono Granché Anzi Magari quelle Quei pochi contadini Che invece Erano riusciti A In qualche modo Dopo l'abolizione Della servitù Della gleba A Prendersi la terra Non poterono neanche Adesso ne parliamo ragazzi Un attimo Questo direi di rinforzare Questo che siamo troppo Sotto di roba Non poterono neanche Diciamo Sfruttarlo Perché Il comunismo Ha Quell'ottica In cui dice Beh Diciamo Quello che mi ha fatto Sempre ridere Del comunismo Che la sua La sua ideologia È più o meno In questo modo Dato che Facciamo Facciamo schifo Noi facciamo schifo Noi viviamo di merda Facciamo che Tutti vivano di merda Non che dici Viviamo meglio In modo C'è capito E' quella la cosa Bisogna essere tutti uguali Quindi E' certo Era tutti uguali Però Nella retratezza Nella Sotto il partito Ragazzi Poi ovviamente Il comunismo Un po' Fantasioso Era quello in cui Tutti si viveva bene Felici Però se poi Le risorse Sono quelle Tutti si vive male Ragazzi Ditemi se siete D'accordo con me Perché Cioè Ma però Ragazzi Adesso ho paura Perché magari Verrà qualche Comunistone Qua sotto Nei commenti Però io ve l'ho detto Non lo faccio Per offendervi Dico solo Che la vostra ideologia È una gran troiata Ma non è per offendervi È un mio punto di vista Andiamo Mi vedo a ridere Perché mi metto sempre nei casini Porca miseria Allora Dovrei fare gameplay E basta Dovrei fare come Che so No dai Non dico perché Poi faccio Ragazzi Non si può dire niente Al mondo d'oggi Che finisci sempre Per offendere qualcuno Allora Questo non si può fare Questo non si può fare Possiamo fare Rinforzare la marina imperiale Che mi piace Rinforzare questo Va bene L'industria Qualcosa che mi tolga Quell'orribile cosa Del Eh questo non è male Sforzo politico Anche possiamo farlo Condannare le idee marxiste Questo ci porta verso il fascismo Noi rimarremo qui Per rinforzare L'autorità Rinforzare l'autorità Dello zarra Però prima facciamo Sforzo diplomatico Che ci dà anche 150 di potere politico Mettiamo a 3 Che adesso Tra poco arriviamo A 150 di potere politico Preferisco un po' Come hanno organizzato La cosa Nella Kaiserreich Con i ministri Invece qui hanno lasciato La situazione standard Allora Dato che non possiamo Addestrare le truppe Perché Siamo sotto Di miliardi Di equipaggiamento Ci serve un teorico Per guadagnare Qualche punto Di esperienza Armata Però ragazzi Cercheremo comunque Di acquisire Esperienza Oh La Corriera è stata Addirittura Annessa Bene Che abbiamo Qualche fabbrichetta In più Sempre armi Una volta Una volta Ragazzi Che Riusciremo A rientrare Metteremo Ad addestrare Le truppe Ragazzi Il Portogallo È diventato Una repubblica Va bene Oddio Che Ma Ovviamente In quel periodo Vabbè Solo un quadro C'era A disposizione Non c'era Una foto Vabbè E niente Ragazzi Abbiamo già capito Che My idea E veramente Fare un video Su Youtube Soprattutto In un canale Come il mio In cui ci sono Tante Differenze Di ideologia E come camminare Un po' Su Un pavimento No A piedi nudi Dove ci sono Dei chiodi Perché devi stare attento Attenzione Ma in generale Ormai è diventato così In tutti gli ambiti Fate la televisione Pubblicità Cinema Qualsiasi cosa Devi stare attento Perché offendi qualcuno Attenzione Attenzione Se offendi qualcuno Non si può dire niente Che Offendi qualcuno Dici una roba del genere Dici Ma che bella ragazza Che sei Oh Sessista Vedi le donne Solo per la bella Guardate Io ho detto Solo che sei una bella No Sessista Nazi Femmin Le nazi femministe Che arrivano a rompere i coglioni Poi dici magari Rinforzare un po' L'autorità dello stat Fascista Fascista Sapete No Radical chic 303 Col suo cappellino Che viene a rompere i coglioni Qui intanto Il 2 novembre 1910 Quanto siamo Con lo sforzo Diplomatico Intanto qui Si sta rinforzando Oh ma comunque La Cina è messa Davvero male Se potessimo Attaccarla Penso che sfonderemmo Incredibilmente Cosa avrà Vediamo quante truppe avrà Dalle 31 Alle 56 Che schifo L'esercito cinese Invece io ne ho Ragazzi 157 Sì però Armate Con le fionde Però Tanto industria pesante Va benissimo Per noi Allora Mettiamo un attimo In pausa Qui Oh ma quante fabbriche Stiamo facendo Continuiamo a fare Un po' di fabbriche Magari facciamo Anche qualche altro Porto Dockers Dockers Allora Tecnologie Vediamo un po' Cosa possiamo fare Questo è interessante Qui adesso stiamo Eccedendo Possiamo anche Pensare Cari armati No ancora troppo presto Artiglieria La stiamo facendo Dottrine Aspettiamo Ancora un attimo Navi pure Dottrine navali Aerei Dottrine aeree Ingegneria Propulsione Delle torpedini Qui dei sottomarini Per farli più forti Ma io direi Di fare questo E basta Qualche fabbrica In più Sempre Fucili Ragazzi Perché Sappiamo un po' Com'è la nostra Situazione Com'è la nostra Situazione No Comunque io Sono contento Di avere un pubblico Come voi Ragazzi Perché Mettete se Eravate Tutti Dei fanatici Un po' Del gioco Perché Ad esempio Adesso faccio Magari qualche nome No Fate che so Andrew Chan Che c'ha il canale Di Qui fa Europa Universalis C'ha gente Molto esperta Che sta lì Un po' A seguirlo E lo bacchetta Anche quindi Deve Deve giocare Bene Invece io Ho un pubblico Diciamo un po' Più di bocca Buona Ragazzi Anche se Faccio tante Cagate Ridiamo Assieme Parliamo Di politica Oh Immaginate Cioè Se eravate No ma ci sono Alcuni di voi Ragazzi che Sanno giocare Bene Mi criticate Anche Fate Benissimo Intanto Politica In Scandinavia Western Focus Lo possiamo Fare Allora Inforziamo La posizione Nell'est C'è